Allora Luca, una vittoria importante contro il Trapani, una vittoria che cancella finalmente quello zero da quella casella. Ecco per voi, quanto è stato importante vincere a Trapani? Sì, una vittoria che ci ha dato un po' di morale e soprattutto anche la conoscenza di quello che possiamo fare e come dobbiamo lavorare durante le settimane per portare dei punti a casa. È una vittoria che conta moltissimo anche perché è stata trovata fuori casa e finalmente siamo riusciti a trovare i tre punti. Siete un gruppo forte, siete un gruppo unitolo, siete stati dal primo giorno. Quello che ti chiedo però è quanto vi ha aiutato il ritiro a compattarvi ancora di più? Penso che non serviva il ritiro per compattarci ma più che altro per lavorare meglio e stare un po' più sereni. Siamo un gruppo che abbiamo sempre dimostrato di essere uniti e ora dobbiamo solo continuare su questa strada e andare avanti così. Un allenamento oggi particolare, un allenamento duro sul parco di Quisisana, ogni tanto è sempre un bene mettere benzina nelle gambe soprattutto quando poi c'è la sossa del campionato. Sì, abbiamo fatto un bel lavoro come facciamo tutti i giorni, siamo andati lì, abbiamo respirato anche un po' d'aria fresca e abbiamo lavorato il giusto e niente, dobbiamo continuare così. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica nazionale. L'unica. Pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Celulare 0 3La La Rottecanica nazionale. Cura i migliori spettacoli di QTSS E'e coulda un'organizzazione di QTSS-LD, attacchino sperrò che s'essi in gestione e rispondente di QTSS-LD. di QTSS-Lizzer, attacchino Ate frazze, un'organizzazione di QTSS-LV, che s'entrae, a chi s'estrata, a chi si si è un'organizzazione di QTSS-LV, che s'entrae e sce군 e sottottene, a chi si dobbiamo continuare a fare il suo sorprendente. Cura i migliori spettacolo al Grazie a tutti